Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi diamo alcune novità su Antonella Ferdelisi. Prima però clicca su iscriviti se ancora non lo hai fatto. Antonella Ferdelisi fa sapere a tutti i suoi fan che martedì prenderà parte all'apertura del pop-up di Shane in Sicilia. Ma c'è una cosa che dovete sapere. Il 23 pomeriggio sarò all'apertura del pop-up di Shane a Catania. Probabilmente non faranno entrare gli esterni perché sarà aperto al pubblico il giorno dopo. Cosa ne pensate? C'è qualcuno tra voi che avrebbe voluto esserci? Ma andiamo avanti. La nostra anellina condivide post fantastici con i suoi fan e scrive. Visto che ultimamente i miei post vi piacciono tanto, New Reel postando un video della vacanza in cui fa il bagno. Ma non è finita qui perché Antonella Ferdelisi in un'affermazione a senza volerlo spoilerato una cosa di Pechino Express che molto probabilmente la maggior parte di voi lo immagina già. Mi ha fatto tanto piacere che qualche fiorellina sia andata a trovare Fabio e Eleonora da Sky. Ci sarò anche io quando sarò eliminata. Ovviamente. Aspettiamo i vostri commenti al riguardo ma non dimenticate di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto e grazie per averci seguito. A presto con altri contenuti affascinanti. Grazie a tutti.